sarà vero sarà falso il drama di sarah è tornato per colpa del cyberbullismo stavo per rinunciare a tutti i miei sogni lady georgia ancora contro samara tramontana sono volate delle frecciatine shock raccontare la storia c'è la raccontata lei lei ha parlato di me perché non posso dire la mia ciao scappati di casa io sono fabrizio e valerio è il mio cognome benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di tg talk il telegiornale più shock del web dedicato al fantastico magico mondo di tiktok il drama di sarah è tornato sarà vero sarà falso o sarà che non ce ne frega un c***o prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto gossip drama e il meglio anche il peggio di tg talk vi ricordo poi anche di seguirmi su instagram dove mi trovate come fabrizio valerio ed ovviamente anche su tiktok visto che è di questo che parliamo dove sono sempre fabrizio valerio ed eccoci qua ragazzi nuovo tg talk nuove notizie super super shock che vi devo raccontare sicuramente dal titolo del video di oggi io lo so che la vostra reazione è stata più o meno questa avete letto molto bene il titolo di questo video il drama di sarah è tornato a distanza di due anni dal marzo 2022 sì siamo ancora qui a parlare di sarah is over party del drama di sarah del dissing tra samara tramontana e lady george e di chi più ne ha più ne mette insomma di tutte queste cose anche perché iconico è stato il drama appunto di sarah is over party lady g contro samara insomma tutto questo ci ha tenuto molta compagnia ci ha fatto arrabbiare ci ha fatto sorridere ci ha fatto divertire ci ha fatto anche riflettere il dissing tra samara tramontana e lady george è scoppiato due anni fa e da questa data iconica dal marzo 2022 tante sono le cose che sono successe se vi siete persi tutte le puntate precedenti di questo drama di sarah vi ricordo che come sempre qui nella i di informazioni trovate tutto quanto ma vi ricordo anche che qualche settimana fa avevamo ampiamente parlato delle ultimissime frecciatine che erano volate tra samara tramontana e lady george se ve le siete perse ve le lascio anche quelle qui nella i di informazioni detto questo siete pronti a distanza di due anni da tornare nel drama di sarah oh mio dio sono super emozionated il nostro racconto riparte da qui da questa notizia shock e inaspettata e cioè che samara tramontana ha iniziato il suo podcast un podcast delle interviste fatte a dei personaggi che hanno vissuto sulla loro pelle proprio il bullismo infatti il titolo di questo podcast il nome di questo podcast è over party insomma lo sappiamo no quando una persona viene tacciata di aver fatto qualcosa o comunque viene cancellata no così si dice in inglese cancelled cioè cancellare qualcuno significa proprio che ne so fino a ieri wow fantastico un po come quello che è successo a chiara ferragni no tutti l'amavano a un certo punto succede la cosa del pandoro e c'è chi decide di cancellarla quindi proprio di dire no basta non mi piace più non la seguo più eccetera eccetera ecco questo questo vuol dire over party no cioè la festa è finita no di fronte a tutto questo dobbiamo fare insomma un passo indietro no capire il perché di questo podcast capire il perché samara ha deciso di voler dare spazio di voler dar voce a chi intervisterà appunto nel suo studio guardate ciao sono samara tramontana e nel 2022 per colpa del cyberbullismo stavo per rinunciare a tutti i miei sogni parole pesantissime scritte da migliaia di sconosciuti che avendo deciso che da quel giorno per me la festa doveva finire in questo podcast parlando con chi l'ha vissuto sulla sua pelle impariamo a difenderci dal bullismo online perché l'odio è virtuale ma il problema è reale e pensate il primo ospite di questo fortunato podcast di samara tramontana è proprio lui christian dalò il suo ex fidanzato che a distanza di due anni ha deciso di parlare ampiamente in questo podcast è un'intervista molto bella a cuore aperto che ci fa capire soprattutto che tra samara e christian sì l'amore è finito ma il bene rimane questa credo che sia la cosa più importante christian in prima persona era stato protagonista del drama di sarah e sa benissimo tutto quello che è successo ma che cosa succede oggi non dobbiamo parlare di christian daloi samara tramontana eccetera eccetera ma dobbiamo ampiamente parlare di cosa è accaduto da questo podcast in poi partiamo innanzitutto con il dire che samara ha deciso di condividere un video promo anche su tiktok nel quale ha spiegato da dove nasce l'idea di over party e parla proprio del suo sarah is over party guardate vi ricordate sarah over party io sì sembrava non finire più invece eccoci qui sono sono fiera di annunciarvi over party il mio podcast ed ovviamente c'è chi di fronte a questo video ha subito storto il naso insomma prima fai un libro sul drama di sarah adesso anche il podcast l'hai sfruttata bene questa cosa questo è quello che dice il commento che si è ritrovata samara tramontana sotto il suo video ebbene di fronte a tutto questo samara ha deciso di rispondere lo ha fatto mettendoci come sempre la faccia e pubblicando questo video guardate questo commento che io stavo aspettando prima di tutto grazie mille per tutti i messaggi bellissimi che mi avete mandato in direct sotto nei commenti io vi leggo sempre tutti poi ci tenevo a chiarire questa cosa qua perché prima o poi qualcuno l'avrebbe detto un anno fa circa io sono stata in mezzo a questa polemica gigante dove non avevo più un'identità da samara sono diventata sarah e tuttora alcune persone mi fermano e dicono ciao sarah io no mi chiamo samara questo è un altro un altro argomento poi sono passata per il mostro dei social che chissà che cosa avessi combinato anche se quelle cose fossero state vere che non lo sono ma anche se lo fossero state ma mi è sembrata un po' esagerata la vostra relazione sinceramente delle persone si sono intromesse che neanche mi conoscono dal vivo cioè questa è stata la cosa folle tipo gente che mi commentava e mi insultava che non ho mai visto cioè neanche sapevo chi fossero praticamente quindi ho detto vabbè wow però io sono stata zitta cioè io non ho fatto niente infatti così ho detto boh la gente magari se ne accorge che se uno non parla e non si difende c'è un motivo invece no non ha capito nessuno io poi ho fatto un libro ho fatto un libro per raccontare quello che mi era successo non per infierire ancora di più per raccontare la storia cioè l'ha raccontata lei lei ha parlato di me perché io non posso dire la mia cioè non ho capito e il podcast non serve per riprendere il tutto e riraccontarlo assolutamente no ovviamente la mia storia serve perché sennò non ci sarebbe questo podcast però poi da lì intervisterò tante persone ci saranno dei confronti non voglio dirvi nient'altro nel senso che fra poco uscire al trailer quindi scoprirete bene tutto però veramente prima di dire qualsiasi cosa aspettate l'uscita ovviamente le critiche nei confronti di Samara Tramontana non finiscono qui perché c'è ovviamente chi si è interessato a questo podcast chi lo ha ascoltato chi ha guardato anche l'intervista a Christian Dalloi e chi vuole sapere qualcosa di più e questo qualcosa di più vuole insomma una persona in questa vicenda stiamo parlando di Lady Georgia che in questi giorni si è vista arrivare tantissimi commenti inerenti al podcast over party di Samara Tramontana inerenti anche alla sua di vita infatti c'è chi dice ci hai provato non ci sei riuscita e hai provato a rovinarle la vita e Lady Georgia risponde con è andata al contrario ma ok ha 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 c'è poi chi dice come fai ad avere questi glow up vorrei essere come te lei risponde soffrendo quindi soffrendo a questi glow up ma non finisce qui perché c'è chi dice è finita la sua carriera e Lady Georgia risponde con è appena iniziata ma l'altro profilo TikTok che avevi mondo corrotto pieno di persone di me che per vincere e uscirne puliti arrivano a giocare sporco ma arriviamo alla risposta delle risposte c'è infatti chi le chiede hai visto il podcast di Sam e lei risponde con non mi piacciono i film fantasy insomma ragazzi questo è quello che ha detto Lady Georgia per quanto riguarda il podcast di Samara Tramontana a lei film di fantasia non piacciono ma bisogna dire la verità che Samara non ha parlato nuovamente del Sarai's Over Party ha semplicemente dato voce a delle persone che hanno vissuto sulla loro pelle come lei il bullismo detto questo comunque che cosa succede in queste ultime settimane ci sono state tante cose no sui social che sono successe e parliamo nuovamente di Samara Samara che in diretta da RDS Next ha risposto ad alcune domande ad alcune curiosità dei fan degli ascoltatori di RDS Next e fate bene attenzione ad un certo punto si parla di una persona lei è Giulia Sara Salemi insomma la conosciamo tutti ovviamente non ha bisogno di presentazioni creator ex componente di Stardust che durante il Sarai's Over Party si era ampiamente come posso dire schierata dalla parte di Lady Georgia sua amica e che cosa accade? beh viene tirato in ballo il nome di Giulia Sara Salemi ai microfoni di RDS Next e questa è la risposta che Samara ci dà rispetto al suo rapporto di amicizia oppure no proprio con Giulia Sara Salemi guardate c'è ancora in amicizia con Giulia Salemi non sono mai stata amica di Salemi di Giulia e mai lo sarò ah ma è vero scusa non so perché mi ha fatto ridere ovviamente le parole di Samara sono state riprese da tantissime pagine di gossip sia su TikTok sia su Instagram con gli amici di web insomma tutti ne hanno parlato ed ovviamente c'è chi si è chiesto ma cosa è successo tra Samara e Giulia Sara Salemi la risposta ce la dà nuovamente Samara che ha voluto chiarire la sua posizione nei confronti di Giulia Sara Salemi ancora ancora una volta guardate state facendo tutti la stessa domanda con Giulia Salemi vi dicevo che non sarò mai amica di Giulia e che non lo sono mai stata è vero fare un video non significa chiaramente essere amiche noi lavoriamo sui social lavoravamo nella stessa agenzia ora non più quindi facevamo anche video insieme non eravamo obbligate da nessuno ma lo facevamo perché si fa non eravamo amiche migliori amiche neanche conoscenti io non so niente di lei chiudo la vita di Giulia non ne so niente ma non me ne frega altamente niente ma come a lei della mia quindi capito non siete amiche punto esatto vorrei proprio che capiate che TikTok e i social non sono la vita reale questo non vuol dire che noi fingiamo perché non ho mai finto però se faccio un video ogni tanto con qualcuno non vuol dire che o ci sto insieme o sono amici cioè non vuol dire niente insomma ragazzi una cosa è certa il drama di Sara ci regala sempre forti emozioni e soprattutto delle frecciatine shock io ragazzi non so più che dire so soltanto che il drama di Sara è effettivamente uno di quei drammi che ci porteremo sempre nel cuore dietro a noi perché comunque è stato per mille ragioni iconico per mille ragioni ha interessato grandissimo grandissima parte di pubblico perché tantissime persone c'è chi mi ha conosciuto proprio con quel dramma ed io come posso dire mi sono sempre molto interessato a questo drama a quello che ci stava dietro infatti ho fatto anche un'intervista a Samara dove lei ha presentato anche il suo libro insomma uno un pilastro fondamentale forse del gossip qua sui social perché ci ha insegnato tante cose ci ha insegnato che se la storia viene raccontata male l'epilogo può essere molto molto brutto però insomma a prescindere da tutto questo passeranno 50 anni da oggi noi saremo ancora qui a parlare del drama di Sara non lo so ma insomma staremo a vedere quello che succederà adesso aspetto i vostri di commenti qui sotto come sempre fatemi sapere quello che pensate il video finisce qui spero che vi sia piaciuto e se è così lasciate un bel pollice in su iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video vero Mark vai saluta Mark vabbè ragazzi anche oggi noi ci abbiamo provato ciao